Vincita record da 371 milioni al superenalotto in tutta Italia. In Sicilia vinte 9 quote da oltre 4 milioni di euro ciascuna in diverse località, una a sommatino. Beni confiscati alla criminalità organizzata, riunione in prefettura per monitorare l'utilizzo di quelli assegnati ai comuni. Raccolta del farmaco, gesto di solidarietà anche nel Nisseno. Sport, calcio, eccellenza. Domenica, Nissa, Castellammare, Alto Maselli. Ai biancoscudati servono 3 punti per allontanarsi dalla zona play-out. Ben trovati. Vincita record da 371 milioni di euro al superenalotto in tutta Italia. In Sicilia vinte 9 quote da oltre 4 milioni, una a sommatino nel Nisseno. Vincita record da 371 milioni di euro al superenalotto in tutta Italia. La fortuna ha baciato in particolare la Sicilia, con 9 quote vinte da oltre 4 milioni di euro ciascuna in diverse località. Tre quote a Termini Merese in provincia di Palermo, una a Ragusa, una a Messina, una a Palermo, una a Marineo nel Palermitano, una a Sommatino in provincia di Caltanissetta, così come a Villa Abate, sempre in provincia di Palermo. La regina dello stivale è la Campania, che si è aggiudicata il 6 multimilionario centrato nell'estrazione di giovedì sera. Sono state 14, secondo l'agenzia GMEG, le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. La deabbendata ha distribuito la sua fortuna in quasi tutte le regioni dello stivale, con particolare Grazia nel centro-sud, con le vincite ognuna del valore di 4 milioni 123 mila 704,71 euro, in Campania ben 14, poi segue la Sicilia con 9 insieme alla Calabria, poi Marche e Lazio con 7. Senza vincite sono rimaste la Valle d'Aosta, il Molise, la Basilicata e la Sardegna. Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvata la mozione di destituzione di due assessori, Caracausi e Gianmusso. La replica del sindaco Gambino. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Più che un consiglio comunale, ieri sera è andato in atto un regolamento di conti, di cui si sono chiarite tante cose. Il consiglio, suddiviso su sei punti all'ordine del giorno, ha avuto il suo culmine sulla mozione di destituzione dalla carica assessoriale del vicesintaco Grazia Gianmusso e dell'assessore Fabio Caracausi. Con dieci voti a favore contro nove è stata approvata la richiesta di destituzione dell'opposizione, lanciata dal consigliere Gianluca Bruzzaniti e firmata dai capigruppo. Adesso la decisione spetterebbe al sindaco Roberto Gambino, che ha già però sottolineato che la giunta non si cambia. Nel consiglio, che si è potratto in una notte fonda, si respirava già un clima da campagna elettorale, con le nuove elezioni che avverranno tra 14 mesi, con nervi tesi e ripicche personali. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Ieri c'è stato un confronto in aula su questo tema, ovviamente l'opposizione in questo momento ai numeri ha approvato questa sua mozione. È chiaro che io ho espresso la massima fiducia nei confronti non solo dei miei assessori, ma dell'intera giunta e dell'intero gruppo consigliare. Noi in questo momento ci siamo molto compattati, anche con il gruppo consigliare, e devo dire che in questo momento si sta lavorando molto, ma molto bene, proprio per il bene della città. Poi è chiaro, chi ha aperto la sua campagna elettorale ha tutto l'interesse a creare dei momenti anche di tensione, anche per avere l'evidenza sui social, sui media, ed è legittimo per carità, si cominciano a cercare degli spazi, ma ricordiamoci che sarà così magari per un anno intero, per cui questo potrà anche succedere. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Beni confiscati alla criminalità organizzata. Riunione in Prefettura per monitorare l'utilizzo di quelli assegnati ai comuni. La confisca dei beni è uno degli strumenti più importanti nel contrasto da parte dello Stato alla criminalità organizzata, proprio per questo sempre più attenzionata dalle istituzioni. In quest'ottica si è svolta questa mattina, su impulso del Prefetto di Caltanissetta, una riunione finalizzata a realizzare un monitoraggio sui beni immobili già oggetto di confisca nei confronti di esponenti della criminalità organizzata e assegnati ai comuni della provincia nissena. In particolare il Prefetto ha sottolineato come l'obiettivo dell'incontro sia quello di verificare l'effettivo riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata al fine di attuare il principio previsto dalla norma vigente del riuso sociale degli stessi. Durante la riunione, presieduta dal Prefetto, erano presenti in collegamento da remoto il referente dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, sede secondaria di Reggio Calabria, Massimo Nicolò, e i sindaci della provincia di Caltanissetta. Il dottor Nicolò ha ringraziato il Prefetto per aver promosso l'incontro, poi ha rassicurato i sindaci, garantendo loro il massimo supporto per qualunque esigenza si manifesti nell'ambito delle procedure che riguardano i diversi beni assegnati alle amministrazioni comunali. Grande apprezzamento è stata manifestata anche da parte dei sindaci per l'importante occasione di confronto offerta che ha consentito di esaminare alcune criticità e di individuare rapidamente soluzioni per completare l'iter finalizzato a destinare beni a finalità sociali. Laboratori di analisi. L'assessore regionale alla salute Giovanna Volo incontra i rappresentanti sindacali. Modifica delle tariffe, rimodulazione del budget e omogeneità nei rapporti con le aziende sanitarie provinciali. Sono questi i temi principali che sono stati affrontati nell'incontro organizzato dall'assessore regionale alla salute Giovanna Volo con i rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi. Dopo un ampio e a mio parere proficuo confronto, dice la Volo, abbiamo definito i contorni delle criticità più urgenti. Il mio auspicio è che ci sia la volontà di tutti a continuare a lavorare assieme per trovare soluzioni utili e sostenibili. Da parte nostra c'è la massima disponibilità, nei limiti di quando ci consente la legge e di quando è sostenibile sul piano economico-finanziario, a utilizzare tutti gli strumenti in nostro possesso per venire incontro alle richieste del settore. Per questo abbiamo ribadito l'intenzione di rendere questo confronto costante attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente, in cui pubblico e privato possano dialogare concretamente. Per quanto dipende direttamente da norme nazionali, considerando che la Sicilia è una regione ancora in piano di rientro, avvieremo al più presto una interlocuzione con Roma. Mi auguro, conclude l'assessore, che la nostra volontà di collaborare venga ascoltata e condivisa dalle organizzazioni sindacali, evitando così che l'annunciata interruzione dei servizi possa ricadere sui cittadini e colpire soprattutto le fasce più deboli. Raccolta del farmaco, un gesto di solidarietà anche nel Nisseno. Dal 7 al 13 febbraio anche i territori di Caltanissetta ed Enna hanno dato il proprio contributo in occasione della ventitresima giornata della raccolta del farmaco. Un gesto di solidarietà che è stato condiviso da molti cittadini che hanno donato qualcosa, recandosi nelle varie farmacie aderenti all'iniziativa del Banco Farmaceutico, tra Caltanissetta, San Cataldo, Serra di Falco, Santa Caterina, Villa Armosa, Niscemi, Gela e Centuripe. Positivo infatti il bilancio secondo il responsabile delle province di Caltanissetta ed Enna, Filippo Iannello. Quest'anno devo dire che è andata molto molto bene. In provincia di Caltanissetta sono stati raccolti, sulle due province 2.023 pezzi, non farmaci. Mentre sulla provincia di Caltanissetta circa 1.600 e poi rimanendo nella provincia di Enna. In Caltanissetta oltre 700 pezzi, quasi la metà di quello che si è raccolto in provincia è stato raccolto a Caltanissetta. Chiaramente Caltanissetta è la città, è il capoluogo, quindi diciamo che c'è una maggiore utenza dentro le farmacie, quindi diciamo che riusciamo ad avere più consensi. Però devo dire che anche Serra di Falco, pur essendo un paese piccolo, il paese è stato, o Santa Caterina stessa, sono stati veramente in una maniera proprio amabili per quello che hanno fatto e per quanto hanno dato. La raccolta è stata effettuata grazie anche alla collaborazione di numerosi volontari e associazioni. A Gela, dobbiamo dire che l'associazione La Piccola Casa della Misericordia ha fatto tanto, a Niscemi la Misericordia, che è molto impegnata sul territorio. Poi a Santa Caterina hanno fatto proprio la staffetta, la Croce Rossa, i volontari del Banco Alimentare, i carabinieri in concedo. A Serra di Falco i volontari dell'associazione Don Pino Puglisi, a San Cataldo l'associazione Progetto e Lavoro, e poi anche l'associazione Beato Giacomo Cusmano, che ha fatto tanto. Diciamo che ovunque, a Centuripe, l'associazione Progetto per Centuripe, diciamo che tutti si sono spesi in una maniera tanta, ma devo dire una cosa, un grazie a Caltanissetta, devo darlo per Agata Scangarella, che con l'associazione Copiosa Redenzione, mi sembra che si chiami, Copiosa Redenzione, e che il collegio Parrocchia Sant'Agata è riuscito a coinvolgere non so quanti persone, oltre un'ottantina di persone, e i risultati a Caltanissetta si sono avuti. Nel caso di Caltanissetta, i farmaci da banco raccolti e i prodotti per l'igiene, anche per i più piccoli, come Pannonine ad esempio, sono stati donati proprio all'associazione Copiosa Redenzione, preseduta da padre Zanata Valdesir, realtà che opera a Sant'Agata. Bonus edilizia, intervento della deputata regionale Grasso, chiederò ufficialmente al governo Schifani di acquistare i crediti attualmente fermi dentro i cassetti fiscali. Da ora in poi non sarà più consentita l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta in materia di incentivi fiscali legati al settore dell'edilizia. Lo stabilisce un decreto legge del Consiglio dei Ministri che consentirà solo la detrazione bloccando di fatto la cessione dei crediti alle regioni e ai comuni poiché è ritenuta potenzialmente negativa per l'aumento del debito pubblico. Ciò getterebbe nel baratro centinaia di imprese siciliane che vantano crediti per oltre 200 milioni di euro attualmente bloccati. È stata la deputata di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, Bernadette Grasso, a lanciare l'allarme. Il già chiuso della Grasso segue la presa di posizione del capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro che in settimana ha esortato l'intervento della Regione per l'acquisto dei crediti d'imposta detenuti dalle banche a seguito di gestione operata dagli operatori economici o dai cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali per evitare di portare al fallimento ha detto centinaia di imprese facendo collassare così l'intero comparto edilizio siciliano. La situazione di stallo si è venuta a creare in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di approvare il decreto legge con misure urgenti in materia di cessione di crediti d'imposta relativa agli incentivi fiscali. Non sarà più possibile secondo il decreto attuato dal Governo Meloni effettuare l'opzione dello sconto in fattura nella cessione dei crediti d'imposta per i bonus fiscali. Il decreto interviene in particolare per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio efficienza energetica e super bonus 110% misure antisismiche facciate impianti fotovoltaici colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L'oggetto dell'intervento non è il bonus bensì la cessione del relativo credito che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico. Chiederò ufficialmente al Governo Schifani di acquistare crediti attualmente fermi dentro i cassetti fiscali ha concluso Lagrasso in linea con quanto stanno già facendo altre regioni d'Italia occorre un adderogo al dettato nazionale per alleviare le sofferenze di tante imprese alla canna del gas. L'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro potrà ricandidarsi estinta all'interdizione. L'ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo la completa riabilitazione. Lo ha reso noto lo stesso Cuffaro evidenziando l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quindi l'ex governatore siciliano in futuro potrà ricandidarsi. Cuffaro è stato condannato nel 2011 a sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia ha dichiarato in una nota Totò Cuffaro attuale commissario regionale della democrazia cristiana. So di aver commesso molti errori per i quali ho pagato un prezzo altissimo coltivo il diritto e credo anche il dovere prosegue di poter continuare a essere utile per questo mi sono speso e mi sto spendendo per affermare un partito di ideali e di valori la democrazia cristiana amo questa terra e amo la politica un partito che voglio che sia nuovo giovane e donna un partito dal cuore antico che abbia la voglia e la forza di fare un assalto alla disumanità e all'indifferenza. Poi nonostante la decisione del tribunale di sorveglianza gli consentirà di candidarsi l'ex governatore sembra tuttavia escludere questa possibilità confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito potrò tornare a fare il medico impegnerò tutte le mie forze affinché la democrazia cristiana oggi una realtà in Sicilia possa diventare anche una realtà nel paese e questo è il mio sogno e chiederò a Don Luigi Sturzo che mi aiuti affinché diventi realtà e se riusciamo a far rinascere l'ADC chissà che non sia il miracolo per farlo diventare finalmente santo ha concluso l'ex governatore Totò Cuffaro Servizio civile domande termine prorogato c'è tempo fino a lunedì 20 C'è ancora un po' di tempo per la presentazione delle domande per il servizio civile universale il termine è stato prorogato e quindi la scadenza è quella delle ore 14 del 20 febbraio 2023 entro lunedì i giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti potranno ancora inviare le domande esclusivamente online attraverso la piattaforma domanda online anche per partecipare alla selezione di 16 operatori volontari nel comune di Caltanissetta per la realizzazione di due progetti giro giro tondo per i quali sono previsti quattro posti e informazione a portata di mano in questo caso i posti disponibili sono 12 di cui 2 per giovani con minore opportunità mentre nell'altro caso viene riservato un solo posto la durata dei progetti è 12 mesi con un'articolazione settimanale di 25 ore su 5 giorni lavorativi si precisa nell'avviso sul sito del comune l'assegno mensile previsto ed erogato dal dipartimento è di 444,30 euro Imprese si allargano i beneficiari dell'avviso Ripresa Sicilia Si allarga il range di età dei soggetti ammessi ai contributi dell'avviso Ripresa Sicilia La misura di sostegno alla competitività delle imprese dell'isola è stata messa a punto dal governo Schifani e rappresenta una delle quattro linee di intervento all'interno del più ampio programma Competitività Sicilia La giunta regionale ha approvato la modifica e requisiti di ammissibilità per la realizzazione di investimenti che favoriscano l'innovazione il trasferimento tecnologico e la riconversione dei siti produttivi Adesso potranno accedere ai benefici coloro che hanno un'età compresa fra i 18 e i 46 anni Per le donne invece non c'è nessun limite Ripresa Sicilia ha una dotazione finanziaria complessiva di 36 milioni 16 provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 20 dal POC 2014-2020 I beneficiari dei finanziamenti sono le piccole e medie imprese dell'isola in forma singola o associata Oltre al range d'età dei richiedenti modificata anche l'intensità dell'aiuto che sarà pari al 75% dell'importo della spesa considerata ammissibile Le agevolazioni previste saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato o tasso zero e contributo a fondo perduto rispettivamente pari al 40% per le piccole e 30% per le medie imprese Sono ammissibili i programmi di spesa da un minimo di 400 mila euro a un massimo di 5 milioni Altra modifica riguarda la modalità della procedura di valutazione delle domande di partecipazione che da negoziale diventa valutativa per accelerare i tempi istruttori Abbiamo ascoltato dice l'assessore regionale dell'attività produttiva Edita Maio gli imprenditori a cui è rivolto il nostro impegno e siamo giunti alla considerazione di modificare i criteri di ammissibilità al bando per andare incontro alle loro esigenze Siamo molto fiduciosi sull'efficacia ed efficienza di questo strumento finanziario che è uno dei tanti interventi messi in gambo per il tessuto imprenditoriale dell'isola insieme al bonus energia Misura volta a contrastare il caro bollette e a incentivare l'adozione di sistemi virtuosi di approvvigionamento energetico Il soggetto attuatore della misura sarà l'IRFIS Istituto Finanziario della Regione Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata attiva dal primo marzo Stagione musicale Margherita lunedì 20 alle ore 19 Mozart Il piacere della musica ingresso gratuito I musicisti austriaco Mozart La musica è un dono che desideriamo possa arrivare a più persone possibili spiega Michele Mosa il direttore del Bellini senza alcuna limitazione anche per questo motivo in linea con l'amministrazione comunale l'ingresso ai concerti è gratuito Mozart aggiunge ci ha regalato un repertorio vastissimo che varia molto tra stili e tipi di musica e le melodie più belle verranno eseguite da un quartetto d'archi di altissimo livello Interviene anche l'assessore Marcello Natale assistere a questi splendidi concerti in più nella prestigiosa cornice del teatro Regina Margherita rappresenta una splendida occasione di arricchimento culturale e personale non solo per gli appassionati di musica classica sottolinea invitiamo quindi tutti i cittadini del territorio a venire e vivere il teatro la musica la prosa e l'arte in tutte le sue forme Pericolo di coppia stasera alle ore 21 al Rosso di San Secondo protagonisti Michele Privitera Alessandra Falci e Sandro Rossino questa sera alle ore 21 al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta andrà in scena lo spettacolo Pericolo di coppia del Triangolo Notrio formato da Michele Privitera Alessandra Falci e Sandro Rossino una commedia scritta da Marco Cavallaro per la regia di Antonello Capodici vi invitiamo a venire se volete passare un'oretta e mezza in nostra compagnia facendovi due belle risate di quelle di cuore e quindi basta venire in teatro telefonate al botteghino insomma approfittate di questi ultimi posti che sono rimasti per dire venite venite così non ve lo raccontano vi aspettiamo in teatro venite venite per favore venite per favore ne va stati soli non è vero il teatro è vuoto non credo non credo che ci stiamo proprio per il pari brutto aiuto aiutatemi telefonate ora vi diamo i numeri i numeri a tutto al teatro al teatro spargete voci la pagina sportiva calcio serie di san cataldese arriva il real aversa al valentino mazzola verde amaranto chiamati a riscattare la sconfitta casalinga contro il castrovillari è tempo di riscatto per la san cataldese che domenica ospiterà il real aversa nella ventiquattresima giornata del girone i di serie d con l'obiettivo di dimenticare la sconfitta patita sempre al valentino mazzola per mano del castrovillari la squadra campana arriverà in sicilia sulla scorta della delicata importante vittoria contro la cireale che ha ridato slancio alla lotta per la salvezza per la san cataldese invece un altro scontro diretto reso ancora più interessante dai soli 5 punti che dividono le due squadre questo è il turno completo della ventiquattresima giornata del campionato di serie d girone i sabato in anticipo alle ore 15 castrovillari mariglianese mentre domenica alle 14 e 30 cittanovese san luca a cireale santa maria cilento la mezzia terme trapani locri catania paterno vibonese con calcio d'inizio alle 15 canicattì ragusa città di sant'aga talicata san cataldese real versa ancora calcio eccellenza domenica nissa castellammare al marco tomaselli servono tre punti e biancoscudati per allontanarsi dalla zona play out la nissa riprova a ripartire dopo un periodo non positivo e lo farà da domenica al marco tomaselli alle ore 15 contro il castellammare la sconvitta di domenica scorsa al nino vaccara contro la mazzarese potrebbe portare con sé delle scorie non indifferenti e la partita contro il castellammare diventa un banco di prova importante per gli uomini di alessio sferrazza che cercano anche da parte della propria tifoseria la spinta necessaria per ritornare alla vittoria nissa anche sfortunata in questo ultimo periodo tra sconfitte nei minuti finali di gara e gol subiti da metà campo come quello realizzato dal giocatore della mazzarese gioacchino giardina che ha stabilito il nuovo record di gol più veloce della storia del calcio italiano spodestando addirittura l'attaccante del milan rafael leao i biancoscudati vincendo possono uscire oltre dal periodo di crisi anche da una zona calda di classifica che potrebbe compromettersi in un nuovo passo falso eccellenza girone A ventiduesima giornata Acragas Parmonval Casteldaccia Mazzarese Leonfortese Gus Palermo Mazzara Nuova Città di Gela Nissa Castellammare Oratorio San Ciro e Giorgio Profavara Resuttana Enna Sciacca Don Carlo Misilmeri Volley Serie B2 femminile Alba Verde impegnata Pedara obiettivo l'intera posta in pali Dopo la vittoria nello scorso weekend al Palacanizzaro contro la Brico City l'Alba Verde sarà impegnata sabato nella trasferta a Pedara in casa del fanalino di coda Planet Ritrovato il sorriso le pallavoliste nissene cercano il successo lontano dal Palacanizzaro che manca dal 3 dicembre dello scorso anno quando si imposero a Catania contro la funivia Etna La squadra nissena si è allenata con intensità durante la settimana svolgendo anche un allenamento congiunto disputato al Palacanizzaro con l'Hub Ambiente Catania formazione di categoria superiore La gara contro la Planet verrà giocata nella palestra comunale di Pedara con inizio alle ore 16.30 Volley Serie B2 Girone M sedicesima giornata Fidelis Torretta Gioiosa Procorri Ricina Zafferana Stefanese Ardenz Comiso Planet Albaverde Brico City Cuscatania Volley Region Pallavolo Crotone Saracena Funivia Etna Basket Serie D L'Invicta dei record cerca l'ennesima affermazione al Palacanizzaro Domenica pomeriggio alle ore 18 al Palacanizzaro l'Invicta scenderà sul parquet nell'ultima gara del campionato di Serie D contro la Leonardo Da Vinci Manga l'ultimo tassello per incorniciare una stagione stratosferica per i gestisti nisseni guidati dal coach Giuseppe Spena a caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo e cominciare a preparare il play-off di fine stagione E' stata un'Invicta da record in questa stagione che viaggia ad un ritmo elevatissimo frutto di un lavoro nato in estate e messo a punto tra società staff tecnico e giocatori che possono contare anche di un buon serbatoio di talenti cresciuti in casa Domenica dunque la società si aspetta un palazzetto gramito per sostenere la squadra e proiettarla all'obiettivo play-off Basket Serie D Girone B 14esima giornata Basket Messina Sant'Agata Virtus Trapani Capo Basket Invicta Leonardo Da Vinci Riposa Zannella Cefalù E' tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per il fine di settimana con l'anticiclone sabato ancora interessare l'Italia seppur disturbato da infiltrazioni di aria molto umida in quota da ovest verso il vessante tirrenico e poi invece domenica una blanda perturbazione dal nord Europa raggiungerà i Balcani un po' di variabilità in più sull'Italia anche con qualche goccia di pioggia sulla parte occidentale del nostro territorio quindi il vessante tirrenico nel dettaglio possiamo notare intanto la giornata di sabato che appunto sarà di cieli sereni o poco morosi un po' di nubi basse sul vessante tirrenico più compatte tra Levante Ligure e Toscana settentrionale qui locali più vicini sole altrove le nebbie di notte e al primo mattino in Valpadana ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo sul nostro sito web Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco